Vi siete mai chiesti cosa accade dietro le quinte della vita di una persona famosa quando si trova di fronte a una delle sfide più difficili? Oggi andremo a fondo nella storia di Eleonora Giorgi, un volto noto della televisione, che ha affrontato un dramma personale avvolto da lacrime, dolore, ma anche coraggio. Ora, preparatevi per un viaggio emozionante attraverso il mondo delle notizie live stream, un mondo dove la realtà si svela senza filtri. Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, è il dramma che ha sconvolto le loro vite. Ora entriamo nella notizia. Eleonora Giorgi, qualche mese fa, ha confessato in diretta a Pomeriggio 5 di aver iniziato la sua battaglia più grande, quella contro il cancro. L'attrice è stata colpita da un tumore al pancreas e ha iniziato la terapia di chemioterapia. Successivamente, con una grinta incredibile, si è sottoposta a un intervento chirurgico. Uniamo le nostre voci nel desiderare una pronta guarigione ad Eleonora Giorgi. Lasciate i vostri calorosi auguri nei commenti, mostrando il vostro sostegno in questo momento difficile. Durante questo difficile percorso, Eleonora ha utilizzato i suoi social media per aggiornare i fan sulle sue condizioni, confessando che sarebbe stata una lotta difficile, ma che Cia l'avrebbe fatta. Tuttavia, in una recente intervista, ha annunciato che le cose potrebbero non procedere come previsto. Eleonora ha condiviso alcuni aspetti della sua nuova vita, parlando della sua famiglia e del matrimonio tra suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Ma prima di continuare, se ti piace rimanere aggiornato sulle notizie più recenti, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. La sua giornata è ora scandita da una serie di impegni legati agli effetti collaterali significativi della chemioterapia. Una condizione che, a suo modo, trova interessante. L'attrice ha continuato a raccontare il suo percorso, discutendo delle cure non semplici e leggere. I medici le hanno comunicato che ha il 70% di possibilità di operarsi e, se tutto va bene, di vivere. In caso contrario, le prospettive sono più cupe, con Eleonora affermando «Me ne vado in un anno». Ci auguriamo che Eleonora riesca a vincere la sua battaglia più difficile e a tornare presto alla sua vita, circondata dai suoi figli e nipoti, la sua gioia più grande.